Siamo qui al gazebo della Nuova Italia, Magenta, quartiere sud, qui nel parcheggio dell'U2 con candidato consigliere comunale, Moama Chiser. Ecco, spiegaci un po' i tuoi obiettivi, Chiser, perché ti sei candidato e perché sei qui in questo gazebo oggi. Buongiorno a tutti, sono Chiser e sono qui insieme agli altri ragazzi della Nuova Italia e sono un candidato consigliere. Ecco, Chiser, parliamo un po' di sport che è uno dei punti nel programma della Nuova Italia. Ecco, te cosa proponi? Intanto te, vediamo la maglietta Magenta Cricket, pratichi a livello agonistico il cricket. Questo sport avete avuto la possibilità di praticarlo a Magenta? Allora, sì, lo stiamo praticando, prima lo stiamo praticando a Parco Pertini Magenta. Ma abbiamo avuto sempre difficoltà perché i vigili continuavano a venire a dirci di non giocare, ma noi non avevamo alternative. Non si poteva, non si poteva, ecco, infatti abbiamo chiesto al campo al comune. All'inizio ci è stato dato questo campo, il campo 3 del Magenta Calcio, in quanto era inutilizzato, era abbandonato, quindi l'abbiamo pulito tutto a spese nostre, migliaia di euro perché abbiamo creato anche una piattaforma spendendo un sacco di soldi. Poi a un certo punto il comune si è svegliato, l'amministrazione si è svegliata un giorno e ci ha cacciato, senza nessun motivo. L'autorizzazione ce l'avevano data loro. Abbiamo dovuto andare in tribunale, abbiamo speso i soldi anche lì, alla fine abbiamo vinto noi la causa perché ovviamente se l'autorizzazione iniziale era partita da loro non poteva essere un modo diverso. E niente, adesso siamo ancora lì ma ogni tanto vengono comunque a romperci per niente e niente, per praticare lo stiamo praticando. Non riusciamo mai a organizzare torneo perché per chiedere un'autorizzazione a chiamare altre squadre, altri paesi ci vuole un sacco di tempo. Quindi anche oggi noi abbiamo un torneo a Baggio, andremo lì e lì non giochiamo ogni settimana, nessuno ci disturba. E la settimana scorsa siamo andati a giocare a torneo, abbiamo vinto. E quindi dai, magari si potrà a breve organizzare un torneo anche a Magetta? Sicuramente, se la burocrazia non ci chiede mesi e mesi per far organizzare un torneo, sicuramente... E vabbè, qua abbiamo un personaggio che sta scherzando, anche lui fa parte della squadra del Magetta Cricket. Sì, ovviamente, poi lui ti fa mille, io vinto. E' perfetto, va bene. E allora a posto, dai. No, vabbè, poi comunque per gli altri sport c'è direi... Sì, poi io ovviamente non pratico solo cricket, io sono un ex giocatore calcio, ho giocato per Magenta Calcio tanti anni. E niente, noi con sport non intendiamo solo cricket, ma noi giochiamo a badminton, pallavolo, giochiamo a tutti i sport. Tutti gli sport vanno bene, quindi ci sarà da sistemare gli impianti. Esatto, 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 c'è bisogno di rinnovare un po', di una migliore organizzazione da parte del comune. Sì, sicuramente siamo dopo le elezioni, nel caso di Vittoria, noi ci occuperemo di questa faccenda del sport. Perfetto, grazie Chisè. Grazie.